Avvocato Vincenzo Di Maggio, la Puglia Forense, torna alla ribalta con la sua nomina coordinatore nazionale delle scuole forense, una grande soddisfazione e naturalmente grande apertura verso tutti coloro che puntano sulla formazione. La formazione è sempre stato un cavallo di battaglia del mio ordine professionale, dell'ordine di Taranto e quindi il Consiglio nazionale delle forense ha voluto tesorizzare la mia esperienza nel settore e bontà loro hanno voluto all'interno della scuola superiore dell'avvocatura conferirmi questa ampia delega che va da coordinamento di tutte le scuole forense d'Italia alla visione di una scuola forense che sia per contempo professionalizzante e si leghi all'università per un percorso di serietà e di indirizzo dei giovani universitari che vogliono intraprendere questo magnifico, meraviglioso ruolo nella società civile che è quella di avvocato. Quali saranno le sue priorità? Le mie priorità innanzitutto saranno incontrarmi con tutte le scuole, riprogrammare questo torneo di retorica classica che è giunto alla sesta edizione che si chiama Scaccodatto che è partito da Taranto sei anni fa, sette anni fa e che l'ultima edizione ci sarà tenuta a Cosenza e poi riunire per costruire insieme un programma unico che sposi quelle che sono leggi e regolamenti e quindi porga su un tavolo ministeriale quella che è la proposta dell'avvocatura diretta a far sì che finalmente l'obbligatorietà non sia più una lontana chimera ma un'attualità ed un attuale momento di incontro e di cultura.